Ciao, io sono Laura Volpes per Moda Scrap e nel video di oggi andremo a vedere tutti i nuovi prodotti che usciranno con la release primavera 2021. Partiamo dalle carte con i pad nei formati 15x15 cm e in 30x30 cm Save the Bees. Come vedete queste collection sono a tema api e poiché Moda Scrap riconosce l'importanza delle api per i nostri ecosistemi, parte dei ricavati delle vendite di questi paper pad verrà donato ad un'agenzia che si occupa di aumentare la popolazione delle api in delle zone intorno a Milano. Oltre a questa collection di carte pattern abbiamo anche le carte double fast, quindi sul fronte abbiamo questa fantasia fiorellini e sul retro invece abbiamo questa fantasia stile tovaglietta però realizzata ad acquarello molto bella. Ci sono diversi colori disponibili con diverse fantasie floreali e tutti i colori sono stati pensati in modo da potersi coordinare con le carte già presenti nel range Moda Scrap. Andiamo adesso a vedere le nuove fustelle e partiamo dalle Dashing Hearts. Questo è un set di fustelle che taglia dei cuori di quattro dimensioni diverse e oltre alle fustelle dei cuori ci sono questi gancetti che vi permetteranno di trasformare i vostri cuori in delle tag. Le fustelle tagliano le forme e imbossano anche il pattern a righine che è tipico delle fustelle Moda Scrap e che troviamo anche nel set di fustelle Dashing Hexagons. Questo di nuovo è un set di fustelle di dimensioni diverse questa volta a forma esagonale che si va ad aggiungere al range di fustelle geometriche di Moda Scrap e diciamo si adatta bene anche al tema delle api. Sempre per restare in tema api abbiamo il set Honey Jar. Le fustelle in questo set vi permetteranno di creare un vasetto di miele, di marmellata, di Nutella, quello che volete. Abbiamo due fustelle che creano il corpo del vasetto, una che crea il tessuto con cui possiamo coprire il tappo oppure c'è anche una fustella che vi permetterà di creare il classico tappo di metallo. Questa fustella vi permetterà di trasformare il vostro vasetto in una tag, mentre questa qui in alto vi permetterà di creare una card a forma di vasetto. Il set di fustelle B-Suite contiene tantissime fustelle che vi permetteranno di creare dei mini vasetti, sempre di miele, marmellata o quello che volete. C'è una fustella che vi permetterà di tagliare il favo, dei cuoricini e poi delle fustelle con cui potrete creare le vostre apette. C'è davvero tanto da divertirsi con questo set. Abbiamo poi la fustella Save the Bees che con questo pattern esagonale molto divertente vi permetterà di creare in maniera davvero veloce un punto di interesse sui vostri progetti. Le sweet labels possono essere utilizzate per creare delle tag o dei banner per i sentiment e sono state pensate anche per creare delle etichette per i vostri vasetti che avrete creato con la fustella Honey Jar. Anche in questo caso le fustelle tagliano sia la forma dell'etichetta e aggiungono anche questo dettaglio con le righette, sempre tipico delle fustelle in modo a scrap. Abbiamo poi la fustella Big Love e il set include due fustelle diverse, una che taglia la parola Love in questo font molto delicato, davvero bello secondo me, e l'altra leggermente più spessa che può essere sovrapposta per creare un effetto di contorno e la cui idea viene ripresa nel set Big You, che di nuovo ha queste due fustelle, una più sottile e una più spessa che vanno a tagliare la parola You. Il set di fustelle Alphabet Stickers vi consentirà di creare i vostri sticker a tema alfabeto. La fustella misura 15x15 cm e taglia ciascuna lettera quattro volte, quindi con una sola passata attraverso la vostra fustellatrice avrete già parecchie lettere da utilizzare, ma visto che la misura è 15x15 cm la potrete utilizzare su un foglio 30x30 in combinazione con il biadesivo, sempre in fogli 30x30, e in questo modo avrete 16 sticker per lettera. Quindi questo è un set davvero utile e funzionale. Passiamo adesso al campo delle fustelle 3D e partiamo con la Shopper che vi permetterà di creare questa bustina tipo Shopper appunto, con le fustelle che creeranno il corpo della vostra scatolina e le fustelle che vedete invece nella parte alta dello schermo vi aiuteranno a decorarla. Abbiamo poi la Hexagon Box, anch'essa molto carina e di nuovo con una fustella più grande che vi permetterà di creare il corpo della scatolina e delle altre fustelle che invece vi permetteranno di decorarla. Abbiamo poi la Wicker Basket e la peculiarità di questo set è che potete utilizzarlo per creare una scatolina singola e avrete il vostro cestino da decorare poi con dei fiorellini o con diciamo quello che più vi piace, ma potete anche creare due scatoline ed incollarle tra di loro per creare un cestino tipo cestino da picnic. Il risultato è davvero carino e non dimenticate di seguire Moda Scrap sui social per vedere esempi di progetti realizzati da parte del design team con i nuovi prodotti. Abbiamo poi due fustelle che vi permetteranno di creare dei fiori in 3D, sono la Echinopsis Flower che vedete qui a schermo e che comprende delle fustelle per tagliare le foglie e delle fustelle di dimensioni diverse per creare gli strati del vostro fiore e con lo stesso principio è stato anche ideato il set di fustelle Zinnia Flower che vedete qui a schermo. È arrivata l'ora di passare ai timbri e il primo set si chiama Be Happy. Il set ha dei sentiment in un font con uno stile più pulito e il sentiment B invece con questo bellissimo font in corsivo. Abbiamo poi un vasetto e questo pattern in alto che può essere utilizzato per creare anche dei pattern più estesi se lo spostiamo e effettuiamo delle timbrate ripetute. Il set di timbri love ha una struttura abbastanza simile ma il tema è diverso, quindi abbiamo questo pattern in alto con i cuoricini che può sempre essere utilizzato per creare dei pattern più estesi e poi in basso abbiamo invece dei timbri che ci permetteranno di creare sentiment sempre combinando i due stili di font. Il prossimo set è di nuovo un set a tema sentiment ma questa volta alcuni dei messaggi sono racchiusi all'interno di etichette che sono state pensate per essere fustellate con le fustelle del set Sweet Labels che abbiamo visto precedentemente nel video. Abbiamo poi il set di timbri speciale che è un set di sentimenti in italiano e i messaggi che possono essere creati sono adatti a tantissime occasioni diverse, quindi questo è un set davvero versatile. L'ultimo set di timbri della release si chiama Flowers Pattern ed è un set più grande con questo bellissimo motivo floreale che può essere utilizzato per creare degli sfondi davvero stupendi e la particolarità di questo set è che se lo spostate sia orizzontalmente che in verticale potrete andare a timbrare il pattern ripetutamente e creare uno sfondo ancora più grande. Tra le novità moda scrap ci sono anche una serie di nuovi embellishments, i primi dei quali sono queste bellissime die cut. Ci sono quattro nuove collezioni che sono state create sulla base di pattern paper già esistenti quindi la Shade of Love, la Let Your Soul Bloom, la Spring Flowers e anche la Save the Bees. Abbiamo poi queste bellissime mezze perle e sono disponibili in sei finish diversi ce ne sono di trasparenti con un finish satinato, nere, iridescenti e anche bianche quindi un buon range di colori che andrà bene per qualsiasi progetto che deciderete di abbellire con queste mezze perle. Sempre parte del nuovo range di embellishments sono queste nappine che sono davvero deliziose sono piccoline, la misura è un centimetro e sono uscite in 14 colori diversi tutti i colori che si sposano bene con il range di carte e carte patterned nello shop moda scrap. Abbiamo poi il copper wire in quattro colori diversi abbiamo il colore dorato, bronzo, argento e nero quindi di nuovo colori che si adatteranno bene a qualsiasi tipo di progetto deciderete di creare e ultima ma non ultima abbiamo questa wax pen che è uno strumento davvero fenomenale quando si lavora con piccoli embellishments come le mezze perle ma anche i piccoli pezzettini di carta o delle paillettes. Con la punta metallica potrete andare a muovere le vostre perline, girarle se sono capovolte mentre con la punta in cera potrete andare a prelevare le vostre perline e veramente in maniera super agevole incollarle sui vostri progetti. I prodotti della nuova release saranno disponibili sul shop moda scrap e da rivenditori autorizzati a partire dal 10 febbraio 2021 quindi non dimenticate di seguire i link che trovate in descrizione nel caso foste interessati nei prodotti che sono stati mostrati in questo video e come sempre io vi ringrazio tantissimo per essere passati di qua e vi auguro una buona giornata.